Salve a tutti. A grande richiesta dopo la proposta che avevo fatto nella mia ultima missione, eccovi il tutorial sul trolling. Cos'è un troll? Un troll è, in breve, una persona che in rete si diverte a scatenare casino nelle comunità virtuali altrui rompendo l'anima e i componenti che ne fanno parte. Stando a questa definizione, anche un griffer è di fatto un troll. Con l'unica differenza che questo rompe l'anima giocando a un videogame invece che chattando o scrivendo su un forum. Inizialmente, i primi griffer erano ad esempio le persone che facevano team kill nei giochi FPS. Ma è con videogiochi come Minecraft o Terraria, così come su Second Life, che il griffing è diventato un vero e proprio tipo di gameplay, con una sua struttura e tecniche proprie. Col video di oggi non parlerò di griffing, ma per l'appunto di trolling nel classico senso del termine. Vi mostrerò come essere in pratica, un troll di successo. E per farlo prenderò come esempio le trollate fatte nei forum di alcuni server dopo alcune griffate così come quella fatta poche settimane fa nel canale del Capobastone. Ma prima un po' di storia. Tutti avrete riconosciuto la foto del meme troll face che ho messo a inizio video. Ma sapete com'è nato? Beh, quella che vedete ora è la vimletta originale che ha dato origine a questo meme, pubblicata per la prima volta nel sito Deviantarto da un utente di nome Vinny. Ringrazio Nonciclopedia per averla tradutta. Come dite? È di fatto una trollata ai troll? Beh, quale modo migliore per i troll di essere rappresentati se non prendendo se stessi per il culo? Ma ora veniamo al sodo. Essenzialmente, ci sono due strategie per trollare. La scelta di una o dell'altra strategia dipende da quanto sono esperti i moderatori della comunità bersaglio e da quanto sono suscettibili i suoi membri agli insulti o responsivi alle critiche. La prima strategia è la più semplice in assoluto, molto veloce, facile e se ben utilizzata estremamente efficace. Questa tecnica io la chiamo attacco diretto ed è di semplicissima esecuzione. Quello che dovete fare è entrare in un forum e provocare subito in qualche modo i suoi membri. Per esempio, nel caso del griffer di Minecraft, una provocazione allettante che scatenerà un casino della madonna nel forum bersaglio. Se questo è ben moderato, sotto il vostro video facendone impennare le visualizzazioni e pubblicare un link alla vostra griffata in un post. Questa scena che vedete qui è una delle più celebri del mio canale e il video che la contiene, la mia seconda missione su sphx.it, ha scatenato un putiferio fra i miei commenti. La stessa tecnica l'ho utilizzata dopo la mia missione 9 sul server Age of Miners, con risultati simili. Andate a vedere sotto questi video se volete farvi due risate. C'è gente che ha continuato a rompermi i coglioni per mesi, vero Zashi? L'attacco diretto è in generale una tecnica che funziona bene dove i moderatori sono dei nabbi, magari schierati apertamente a favore di una determinata idea, e nei luoghi virtuali dove la gente non ammette critiche. Non funziona invece in quei posti dove i mod sono coi controcazzi o bannano a vista ogni persona che prova anche solo a parlare diverso dal coro. In tali casi ripiegate sulla strategia 2. Ovviamente, più la gente su un argomento è divisa in, tra virgolette, fazioni, più sarà suscettibile a incazzarsi quando qualcuno anche solo li criticherà, magari anche ha ragione. Esempio di fazioni di questo genere sono Ho parlato di fazioni, perché tendenzialmente chi partecipa a queste discussioni non lo fa già di suo conspirito costruttivo, ma solo per far vedere come il suo gruppo, o peggio il leader che lo guida, ce l'abbia duro a tutti gli altri non come lui siano dei coglioni. Capirete benissimo che basterà una scintilla per piantar su un bordello. Il vostro obiettivo in tali casi sarà appunto appiccare l'incendio e poi, come un bravo piromane, uscire di scena e vedere le vostre vittime scannarsi. La tecnica 2 è invece un pelino più complessa, ma permette di fare casino anche in posti ben moderati. Concettualmente, è l'esatto contrario dell'attacco diretto. In questo caso è assolutamente sconsigliato provocare in maniera aperta il vostro form bersaglio, penal ban. Bisogna invece camuffarsi come un qualunque altro utente, magari come nabbo che chiede spiegazioni o almeno non essere aggressivi nel primo approccio. Col capobastone è stato necessario usare appunto questa tecnica di attacco camuffato, proprio perché non è un novellino nella moderazione del suo canale. Inoltre, anche se lui sa giocare bene le sue carte, i suoi fan sono tra le persone più schierate che conosco e pronti a difenderlo a qualunque costo pur di avere un po' di notorietà. Inutile dirsi, saranno questi decerebrati il primo bersaglio del mio attacco. Funziona un po' come quando si deve appiccare un falò, prima si dà fuoco alla sterpaglia, che è facile da accendere, e poi le fiamme così generate saranno in grado di bruciare anche il legno verde col tempo. Il trucco per fare in modo che tutta la foresta vada a fuoco a partire dalla vostra miccia così costruita, è agire in sordina, fomentando gli animi ma non attirando troppo l'attenzione su di sé. Devono essere i membri del forum bersaglio a scannarsi, voi sarete solo la miccia. Ecco fatto. Come avete visto, per iniziare l'attacco ho scritto una semplice critica, senza offese o insulti particolari, e già il primo bimbo minchia è arrivato a piantare casino. Ricordatevi sempre, devono essere sempre gli altri a iniziare a insultare, mai voi. Questo renderà non solo più difficile che vi bannino, ma vi proteggerà anche da eventuali conseguenze legali. Ricordatevi che l'ingiuria in pubblico è un reato, ma se chi vi vuole denunciare è stato il primo a iniziare voi avrete il culo sicuramente più parato. In generale, meno insultate sui forum è meglio è per evitare problemi. Beh, nel caso avevate ancora dei dubbi sul fatto che i fan del capo siano una massa di pecore che lo seguono sempre e comunque, questa risposta, che tra l'altro a ben pensarci fa riflettere su tante cose e fa venir voglia di piangere piuttosto che ridere, chiarirà ogni vostro dubbio. Ma non avete ancora visto nulla, Giuseppe Manca ci stupirà presto con altre perle di saggezza. Ed eccola qua la perla che tutti attendevano. L'avevo già proposta nella mia missione 14 e la rimetto qui. Dopo una disquisizione culturale sul significato della parola fa, lui esce con questo fantastico post. Vi lascio tutto il tempo per leggerlo, io mi stavo rotolando giù dalla sedia. Il capo a questo punto ha iniziato ad accorgersi del casino e ha risposto al nostro car Beppe in modo che sembra stupido, ma che in realtà è strategico. In pratica dice che gli dà l'incarico di tenere d'occhio il canale e cacciare con, tra virgolette, violenza, ogni suo oppositore. Ecco, questa mossa è tipica di chi ha fiuto per gli affari. Anzi, in realtà tutto questo video che lui ha creato è stato creato con questo intento. Il capo infatti sa benissimo che i troll fanno incrementare non poco le visualizzazioni, e quindi ha colto la palla al balzo. Ma attento capobanfone, a giocare col fuoco ci si brucia. Altra regola importante quando trollate, metterci sempre un mezzo o un altro argomento gettonato al trollaggio, come un pizzico di politica, magari riguardo al fascismo o a qualche personaggio di attualità, può aiutare a scaldare gli animi anche in forum dove non si parla di questi argomenti. Se qualcuno del PDL passerà di qui potrebbe anche lui buttarsi nella mischia. Durante questo animato scambio di opinioni, intanto nel canale del capo si è scatenato l'inferno fra i capabastana faghe e i suoi oppositori. Lui ovviamente per ora è felicissimo perché, da buono nei grabber, sta raccimolando il maloppo dato dalle visualizzazioni in crescita. Ma come vedete, a nessuno, neanche al peggior a Raffasoldi, piace avere casino in casa propria, quindi ha iniziato ad attaccarmi direttamente. L'ha fatto con questa battuta da quattro soldi perché crede ancora di poter controllare l'incendio che ho appiccato, ma purtroppo per lui il peggio deve ancora venire. Appena tutti gli altri colleghi Griefer arriveranno qui questo posto diventerà più caldo del Netter. Un'altra cosa che i più intelligenti di voi avranno notato nello screen che ho proposto è che questa fracciata è partita in risposta a un commento dichiaratamente provocatorio di un altro utente. Rispondere ai commenti offensivi altrui per, tra virgolette, rincarare la dose, è un'ottima strategia. Vi permetterà infatti di assumere una fittizia collocazione di secondo piano nell'acceso scambio di opinioni, oltre a far apparire in qualche modo la vostra opinione condivisa anche da altri. Queste altre persone possono essere membri del forum, altri troll, o anche degli account fittizi da voi creati per avere nella discussione delle persone che possano avvalorare le vostre tesi, così come screditare quelle del vostro avversario, anche con dei finti pareri a favore, però portati a un estremo tale da rendere l'opinione dei gestori del forum all'apparenza sbagliata. Per fare un esempio politico, in un diverbio fra capitalisti e comunisti in un forum di comunisti, si può criticare il comunismo facendo dire a un account fake pro comunismo che il comunismo è bello perché, dato che per i comunisti tutto è condiviso con tutti, se il comunismo si afferma nel mondo, ognuno dovrà condividere con gli altri anche la propria donna, con beneficio di chi lo dice. Questa tecnica di mascherarsi da sostenitori della tesi tra virgolette, dominante, si può usare anche per infiltrarsi nella comunità del forum bersaglio senza sospetti, per poi colpirlo con questi pareri a favore estremizzati, che sono molto efficaci per fomentare gli animi rimanendo non sospetti agli occhi degli addomin. O almeno di quelli nabbi. E dai! Festa grande! È così, alla fine anche il capo ha ceduto. Vedere questi commenti, anche se non rivolti a me di persona, mi riempie di gioia. Ma, dopo tutto il casino che gli ho piantato sul canale, mi avrà bannato come ha fatto con mezzo forum dei grifers. Ma che? Questo screenshot è di oggi come potete vedere dalla data in basso, eppure posso scrivere volendo il cazzo che voglio fra i suoi commenti. Un vero troll sa sempre uscire indenne, anche dopo aver offeso la madre degli addomin e le sorelle di metà dei membri di un sito. Ricordatevelo sempre. Ma, eccovi la perla migliore. Gentilmente offerto mi da un altro furbone. No. Non ci credo. Ma che cavolo si è fumato questo, l'erba marcia del giardinetto sotto casa? Qui non sono solo piombato giù dalla sedia, sono letteralmente rotolato giù dalla tromba delle scale per ritrovarmi, in strada dove un'ambulanza mi ha accompagnato dritto in repartino. Questa proposta mi è arrivata dopo che gli ho detto apertamente che ero un troll ed ero venuto nel canale del capo solo per fare casino. La gente è strana a questo mondo, invece di bannarti ti danno un posto d'onore. Non chiedetemi cosa passava per la testa di questo tizio, va oltre la mia umana concezione. Come ultimo consiglio per questo tutorial, vi consiglio di usare dei proxy o direttamente il software tool per creare le utenze fittizie. Questo perché, agli occhi di un admin esperto, l'indirizzo IP fornito dai proxy non vi ricondurrà a voi. Non pensate però di fregare così un admin con esperienza. Inoltre, siti come Facebook bloccano questi sistemi o comunque riescono a risalire facilmente alla vostra vera identità, quindi fate attenzione. Tour inoltre è anche utilissimo per pararsi il culo nel caso il forum bersaglio ha, tra virgolette, la denuncia facile, oppure nel caso si tratta di admin mezzi mafiosi a cui piace rovinare la vita agli oppositori. In tali casi si consiglia estrema cautela, di evitare più che mai insulti diretti, di utilizzare esclusivamente tour e di seguire scrupolosamente le lezioni di guida a questo software gentilmente scritte da Marco Calamari che trovate in descrizione. Anche se sono datate e il software di oggi non è proprio come quello descritto, sono comunque attuali come impostazione. Ricordatevi sempre che l'insulto è un reato e che questo sistema non vi protegge mai al 100%, quindi non fateci grosse stronzate. Ricordatevi però anche che la libertà di parola, se non degenera in insulto, è sacrosanta e nessuno deve permettersi di intimorire qualcuno se questo critica qualcosa. Nemmeno se lo fa da troll. E ricordatevi, il bravo troll non ha mai, e ripeto, mai, bisogno di insultare o bestemmiare per ottenere qualcosa. Lo fa fare sempre e solo agli altri. Scusate il video a lungo, ma spero di aver trattato in maniera esaustiva questo ampio argomento e spero non vi siate annoiati troppo e l'idea vi sia piaciuta. Se a qualcuno interessa, pensavo di organizzare una serie tutta dedicata al trolling sui siti, in parallelo al griffing. Ditemi cosa ne pensate nei commenti ed arrivederci alla prossima.